Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo dei vocalizzi, che cosa sono, a cosa servono e come si utilizzano. I vocalizzi sono degli esercizi che si eseguono normalmente al pianoforte e si eseguono utilizzando le vocali, quasi tutti, perciò si chiamano vocalizzi. Servono per tante cose, per riscaldare la voce prima di cantare, ad esempio. Oggi vi mostrerò qualche esercizio semplice che potete anche praticare da soli. Solitamente si parte utilizzando una nota comoda, quale può essere il Do centrale, ad esempio, e facciamo un esercizio utilizzando tutte le vocali. Semplice. di tre note. Per i maschietti. Poi procediamo per semitoni e andiamo avanti. Cercando di mantenere la stessa posizione della voce su tutte le vocali. i, e, 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 a, u. E non i, e, a, i, e, 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 a, u. Per le femminuzze, invece. i, e, 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 a, u, u, u. Andiamo avanti. i, e, 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 e. Anche voi mantenendo questa posizione. e poi salite ma non portatevi mai troppo in alto o troppo in basso all'estremità della voce fatelo sempre giusto per riscaldare un po' la voce prima di cantare altrimenti se avete un insegnante e vi può seguire allora saprà sicuramente come aiutarvi un altro esercizio può essere partendo da una quinta alta sempre per i maschietti e così via per le femminucce fate sempre una messa di voce mai va spingendo ma va senza mai sforzare questi sono naturalmente soltanto alcuni esempi di vocalizzi ce ne sono tantissimi e di tanti tipi ricordatevi di non andare mai all'estremità della voce se non siete accanto al vostro insegnante che vi può guidare tutti quando vengono a lezione vogliono subito cantare tutti cantiamo una canzone però i vocalizzi sono importantissimi prima di cantare perché riscaldano bene la voce servono per l'agilità vocale per la precisione per imparare alcune scale servono davvero a tante tante cose per potenziare la voce quindi ricordate di farli sempre vi potete che ne so anche trovare la fidanzata se fate i vocalizi non lo so ciao io sono Mario ciao io sono Deborah che cosa fai nella vita? io faccio il cantante oh che bello sai fare i vocalizi? certo ti insegni? ti prendi? come no vieni che ti insegni sì o anche no forse forse questo come si dice un vocalizzo al giorno toglie il medico di torno o era la mela